Prima di passare a Giulia io volevo intanto rendervi edotti del quadro in cui si inserisce questa violazione delle 30 caselle di posta. Noi in quest'ultimo mese abbiamo subito il furto dell'hard disk del nostro capo legislativo. La violazione di queste 30 caselle di posta elettronica di 30 parlamentari del Movimento 5 Stelle con questa minaccia settimanale di violare la vita di comuni cittadini che hanno ovviamente come tutti i loro non assolutamente segreti ma la loro privacy, le loro storie, le loro amicizie, i loro rapporti di lavoro, la loro attività politica perché noi fino a ieri usavamo le mail normali per svolgere attività politica. Ieri a pranzo c'è stato il tentativo di violazione di una casella di posta di un nostro collaboratore sempre nei nostri uffici al Palazzo dei Gruppi, i stessi uffici dove è stato rubato l'hard disk del responsabile del legislativo del 5 Stelle e ieri verso l'ora di pranzo la pubblicazione di una bozza della relazione del gruppo Movimento 5 Stelle al documento di economia e finanza pubblicato sul sito dell'Huffington Post. E ieri abbiamo deciso che la misura era colma. Abbiamo tenuto un basso profilo in questi otto giorni per evitare di andare a intralciare quelle che erano l'attività della magistratura piuttosto che della polizia postale ma a questo punto abbiamo capito che c'è un attacco a tutto campo contro di noi e che probabilmente questo fenomeno è stato sottovalutato. Quindi oggi siamo andati in procura, abbiamo messo in ordine tutti questi fatti che vi stiamo raccontando e soprattutto abbiamo evidenziato che a stamattina ma purtroppo anche adesso alle 5 meno un quarto quindi diciamo 8 ore dopo il mio incontro con il procuratore aggiunto che ha in carico l'indagine che è Capaldo noi non abbiamo notizie ufficiali né sull'attività della magistratura a tutela del Movimento 5 Stelle né l'attività della polizia postale. Quindi noi non sappiamo nulla di che cosa stia facendo la magistratura e la polizia per tutelare 30 cittadini in primis e un gruppo politico che evidentemente sta dando fastidio a molti.